Ragazzi, fermi tutti, interrompete qualsiasi cosa stavate facendo, andare a scuola, andare a lavoro, fare colazione, farvi il bagno, la doccia, portare i bambini a scuola, portare il cane in giro a fare bisogni, perché c'è una notizia, una breaking news veramente, veramente incredibile. Tutta la serie di Half-Life è scaricabile e giocabile gratuitamente su Steam. Valve ha deciso, ovviamente Valve e Steam hanno deciso di farci questo regalo perché sappiamo benissimo che a marzo uscirà Half-Life Alyx, che potrebbe essere un Half-Life 2.5 giocabile in VR e quindi se al mondo ancora esiste qualcuno che non ha mai giocato la serie di Half-Life, questa è la vostra occasione. Prima di lasciarvi andare a scaricare e giocare, qualche dovuta e importantissima precisazione. Allora, i giochi che saranno effettivamente scaricabili sono, ve li dico in ordine, Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift e in aggiunta anche Team Fortress Classic. Ripeto, giocabili e scaricabili gratuitamente da oggi fino a marzo, fino all'uscita di Half-Life Alyx. Qual è l'escamotage e qual è la piccola fregatura? È che questi titoli saranno ottenibili, quindi scaricabili come free to play. Questo vuol dire che da marzo, quando torneranno a pagamento, non li potrete più giocare e se vorrete continuare a giocarli, quindi ad utilizzarli, a godere delle mirabolanti avventure del dottor Gordon Freeman, dovrete acquistarli. Poco male, diciamo, vediamola come un'opportunità per poter riscoprire dei cult senza tempo e, come vi ho detto all'inizio, qualora non li aveste ancora giocati, scoprirli per la prima volta a partire da oggi fino a marzo. Half-Life gratis su Steam, lo ripeto, correte, andate a scaricarli. Grazie per aver seguito questo video, prego! Qualora io vi stesse informando di una cosa che ancora non sapevate e che ritengo di fondamentale importanza, i commenti sotto a disposizione per farci sapere qual è il vostro rapporto con Half-Life, se siete felici di riscoprirli, se è la prima volta che li giocate e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!